Eeeh, ciao! Ma la volevo fare io questa volta, però... Cioè, io ero pronto anche con le mani... Non so se lo sai tu, ma io tipo, quando faccio... Quando faccio le intro, faccio anche i gesti facciali, con le mani, molto strane... Comunque... Lo faccio sempre anch'io. Però tu sei brutto, quindi non ti fai vedere. Non ho che... Vabbè. Ho deciso di dare un nuovissimo video su Minecraft e questo oggi, loco, ho preparato in questa ceste una vastità di armi varie dei mob. Guarda, ne faccio vedere soltanto una, te ne faccio vedere soltanto una. Guarda questa. Fai così. Oh mio Dio. Te la faccio provare soltanto perché, guarda, è bellissima. Provala e tu mi dirai, è bellissimo. È inutile. È bellissimo, non fa danno, però è bellissima. Comunque ho preparato un sacco di armi con degli effetti particolari e oggi andremo a sfidarci con delle armi, ma non saremo noi stessi a scegliere le armi. No, perché vai dalla parte opposta che ci sono le tue chest. Ah, le mie chest! Esattamente. Scegliti tre armi, tipo io per esempio scelgo questa, scelgo questa e questa, e questa sarà il numero uno. Sono vuote. Come sono vuote, ma non è vero. Ciao, ci sono stati dei problemi. Comunque le armi da me selezionate sono queste tre e questa sarà il numero uno, che è tipo wow. Questa è la numero due, che... Io sto scegliendo delle armi potentissime. Ok, e questa è la numero tre. Loco, mi puoi dire un numero da uno a tre, così scegli l'arma con cui dovrò combattere per questo primo fight? Aspetta, sto sentendo anch'io. Eh, ma ti devi muovere. Ti devi dare una calmata. Sono una persona molto così. Di mio numero da uno a tre. Tre. Tre, 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 tre. Tre? Allora, vuoi combattere contro questa, per caso? Che è tipo l'arma del girino. Guarda, c'è la rana nuova della 1-19. E io sai cosa dico? Che tu devi combattere con l'arma numero uno. Uno? Uno. Sei proprio sicuro? Uno. Un pipistrello. Ma non hai più l'armatura, Loco? Cos'hai deciso di perdere? Eh, la mia armatura è sparita. Combattiamo! Ma così, guarda che faccio così e muori, tipo. Cioè, faccio così. Vieni, guarda. Guarda, vieni qua. Ancora, 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 ancora. Ma Loco, ma così è troppo facile. Dammi l'armatura. Possiamo ora? Siamo tutti a posto? Eh? Sì, possiamo. Dai, usa la tua lancia del pipistrello. Io uso la mia lancia della rana. Guarda quanto arriva lontana. Guarda quanto arriva lontano. Guarda. Molto più forte. Quando ti ho tolto? Sì, ma Loco, io sono... Guarda che non mi stai neanche toccando. Cioè, questa è una lancia tipo... Wow! Non iniziare a correre in giro per tutta la mappa perché te lo giuro che per te poi arriva la fine della vita, eh. Loco! Oh mio Dio, ma perché non ho messo le barriere? Vieni qui! Non iniziare a correre! Affronta il tuo destino! Ma guarda quanto mi colpisci da lontano! Ma perché ho una lancia! Guarda la vita! Se vuoi ti dico quanti cuori ho perso. Vuoi saperlo? Sì. Uno... No, mezzo in realtà in questo momento perché ho rigenerato. Io ho un cuore. E allora combatti! Dai, finiamolo, ho l'arma più potente, accettalo e basta. Cioè, non è che è colpa tua, eh. Sì! E Nico vince! Uno a zero, ma non ti preoccupare perché hai un'altra possibilità. Hai un'altra possibilità. Queste armi elimina le, bruciale in qualche modo. E possiamo proseguire con la prossima selezione. Questo mi sembra un sacco carino. Poi non so cosa ne pensi tu. Cosa sembra bellissimo? Poi questa sembra molto bella. E anche, anche, anche... Questa. Non so cosa sia, anzi le voglio testare. Ok. Carino questa cosa. Bellissimo. Questo è... Ok. E questo invece... Mmm. Mmm. Ok. Vai, dimmi un numero da uno a tre. Due. Due. Ah, la falce della morte vuoi affrontare. Pure dagli scheletri. Io invece ti dico lo stesso pure due, sai? Pure ti dico il due. Due? Sì. Che cos'è quella cosa? Andiamo a combattere lontano da qua. Forse è meglio. Combattiamo su questo ponte, come nei film d'azione. Attenzione a non farlo crollare. Sì, ma non ho detto via. E tu non vale che spami quella cosa? Cioè, è un po'... È l'unica arma che ho. Eh, hai ragione. Però, c'è nel senso, non spoccare tutta la mappa, poverini. Posso rimanciare... Posso rimanciartelo indietro? Oddio. Posso rimanciartelo indietro? Sì, ma mi stai... Ma qui, ma qui, quanta vita hai? Eh, mi stai un po'... Un po' così. Mi stai un po' sul cavolo. Posso dirtelo? Ma scusa, ma almeno stai vicino. Cioè, non scappare pure. Ma la lontano. Eh, ho capito, però non è molto... Ma quanta vita hai? Ma non ne ho tanta! Oh, finalmente. Ci voleva tanta morire. Sì, ma ti sei beccato l'arma forte. Cioè, allora così siamo buoni tutti. Cioè, non è che dici allora hai beccato un'arma... No. Ah, tu prima ne hai beccati più forte, cosa c'è entra? Ma io, ora, voglio uscire un'altra arma. Allora, questo mi sembra possente. Poi, voglio un'altra arma possente, che proprio la guardia dice forte. Tipo questa. E infine, questo per il meme. Quindi abbiamo questo, che è un... Oh, no. Poi abbiamo questo, che è un... Oh. E questo, che è un... Carino, dai. Vai, dimmi il numero da uno, due, a tre. Due. No. No. Guarda che non è come sembra, è molto forte in realtà. Io invece ti dico il numero uno. Quell'arma è fortissima. Andiamo a combattere lontano, vieni con me. Andiamo... Perché lontano? Perché... Perché voglio andare lontano, fidati. Vieni qui. Allora, tre. Allora, due. Allora, uno. Vai. Dai! È bellissima questa arma. È uno spara frittate. Uno spara cose. Ti sto facendo danno, almeno. Sì, però non troppo. Eh, ma tipo, cioè, piano piano morirai. No? Eh, mi recupero anche. Però non posso avvicinarmi. Eh, no, infatti no. È un casino. Oh, senti! Questo è un pollo, poverino. Mi stai facendo cacare un sacco di uova. Mi fai meno vincere? Cioè, non lo so, poverino, il suo sedere. Ma la stai spando la bocca. Eh no, eh sì, ma le... Effettivamente è vero. C'è qualcosa che non va in quest'arma. Quanta vita ha esattamente? Io poca, tu invece? 5 cuovi. Ok. Questa cosa mi potrebbe garbare assai. Perché stai scappando? Perché stai scappando? Non andare verso di là che ci sono le chest, però. Loco! Ma guarda questo ragazzo, comunque ha dei problemi. Taglia. Senti, mi sto stancando. Penso che si dà la vittoria. Basta, uccidimi. Poi ho giusto quest'arma perché mi ispira. Mi dai la vittoria! Mi dai la vittoria! Oh, scusa! Mi sono stancato di lanciare delle uova! Ti ho ucciso e non mi hai dato la vittoria! Va bene, sta 2 a 1. Non so, questo continuava a stare... Vabbè, ho capito. Va bene, va bene. Ok, ho capito. Allora io mi prendo questo qua. E poi mi prendo anche... Mi prendo anche questa qua. E poi mi prendo anche questo qua. perché mi ispira. Abbiamo questo che è un... Ok. Questo che invece è un... Ok. E questo che è un... Ok. Mi dici un numero da 1 a 3? Aspetta, ho fatto una stupidata. Cosa hai fatto di stupido? Arrivo subito, un attimo. Tranquillo. Hai un numero 3. Ho capito. Il numero 3? Sì. Molto bene, molto bene. Vai, ti voglio dire anche io un numero. Vai, vai. Il numero 1. Sì. Ok, quella è forte. Quella è forte. Ma non quanto... Questo! È lo scettro del Guardian. E vieni qua perché te lo faccio testare proprio tra 3, 2, 1. Cosa stai facendo? Tieno già pozioni. E pensi di starmi facendo del danno? Eh, fanno danno che si è pozionato in teoria. E tu stai prendendo danno invece dal mio raggio del Guardian. Sì, abbastanza. Eh, ma forse sono sbagliate. Forse sono di Poison, non so, di Weed. Oh, Rigenerazione, grazie! Come Rigenerazione? No, no, no! Grazie! Come va mi stai lanciando Rigenerations? Hai voglia di farmi vincere? Dai, ci sta. Così siamo pari. Ah, te la stai lanciata solo adesso? Certo. Venga subito sono. Insomma. Perché ho vinto. Ma cosa? Dai, schiatta, schiatta. No, beh, loco, dai. Mi sembra un po' too much questa cosa. Puoi schiattare? Ah, io schiatta secondo te. E io schiatta secondo te. Io non schiatterò mai. Sono immortale. Sono lo stregone perfetto. La smetti di rigenerarti. Facciamo che bandita Rigeneration. Dai, dai, bandita. Eh, vabbè. La vita ogni tanto è così. Non ti rigenerò più, va bene? Non ti rigeneri più? No, neanche tu mangi. Eh, ho capito! E cosa vuol dire? Allora, io mi rigenero la mia arma. Non ti rigenerò più. Va bene, non mangio. Ok, non mangio. Questo è uno sciopero della fame indetto da te comunque. Non è che io sia proprio prua a queste cose. Oh! Ti ho lanciato una magia. Hai per caso visto la magia? Cioè, fai così? No, non ho visto la magia. Sei per caso due pari? Non ho capito. Sì, sono due pari. Sei due pari? Allora andiamo avanti. T'altro... Hai un'arma molto carina che vorrei testarla. Puoi venire qui, per favore? Cioè, perché mi sembrava molto carina. Testa, forza, testa. Non l'hai selezionata, purtroppo. Però era questa qua. Meno male che non l'hai selezionata. Non fa danno. Vabbè, pensavo fosse qualcosa di più carino. Vabbè, ho capito. Allora, prendiamo questo. Che mi sembra interessante. Poi prendiamo... Mh... Questo. Carino. E questa, che è l'arma di loco. Sì. Abbiamo questo, che è... Eh... Ok. No, è un'arma molto strana. Questo. Che è carino e... Questa arma non credo faccia danno. Va bene. Ehm... Dimmi un numero da uno a tre. Uno! Davvero? Sì. Non ti va di cambiare? Non puoi cambiare. Non puoi cambiare. Sei sicuro che non ti vada di cambiare? Ma fa danno, magari? No. Non c'è il numero, Nico. Il due. Hai scelto quello che volevo. Ok, vabbè. Facciamo che... Questa te la posso dare vinta, se ti va. No, 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 no. Vuoi proprio combattere? Cambiarmi. Cambiarmi. Vuoi dirmi un altro... Ok, vieni qui. Dai, vieni qui. Facciamo una battaglia. Anzi, aspetta che devo fare una cosa prima. Non so, amore. Aspetta un attimo. Mi ammazzi, per favore, che ho un cuore. Ancora? Grazie. Quando vuole sono pronto! Di a lei il 3, 2, 1, via! Tanto qua è vinta comunque, perché guarda che c'ho io. C'ho un boomerang. Eh sì, vabbè. Cosa voglio fare? È bello, eh. Però nel senso, capisci che... Non so neanche se ti fa danno. Ti ho preso? Ti sto facendo danno? Mi rallenti. Ah. Mi hai rallentato. Ti rallento e basta. Sì. Quindi mi vuoi dire che non... Vabbè. No, ho sbagliato. Adesso facciamo l'ultima. Seleziona bene il tuo equipaggiamento, perché questa potrebbe essere l'ultima. Se vinci tu, se vinco io, invece ti fa lo spareggio. Allora, io voglio. Io voglio. Io voglio. Voglio. Questo. Poi. Voglio. Facciamo che non prendi le arme che abbiamo già visto dall'avversario. Dai, è più carina così. Che ne pensi? Poi voglio. Non lo so. Prendo a questo. E infine. Questo. Sì. Direi che ci siamo. Le testo un attimino. Abbiamo questo che... Ok. Questo che... Ok. E questo che... Ok. Vai. Uno, due o tre. Io ti dico... Due. Davvero? Cosa? No, non ti va di dire uno? No, voglio due. Ma perché... No, perché prima questo era il terra a cui parlo ho scambiato di posizione. Eh, non puoi scambiare posizione. Eh, ma prima... Va bene. Io ti dico tre. Qua scegli. Tre. Mi piace? Va bene. Possiamo provarci. Provarci. Io ho un'arma... Va bene. Tre. Due. Uno. Via. Ah, vuoi pure il vantaggio. Cioè, capito? No, vabbè. Io se vado a fuoco muoio tipo palese. Quanto danno ti faccio? Ho sette cuori. Sei cuori. Ok. Ho sette cuori. Ok. Ok, questa cosa potrebbe essere so interesting for the game. Ora quanti cuori hai? Così? Chiedo per... E vuoi morire! In realtà preferirei di no. Però se puoi puoi scrivere al mio manager e gli puoi chiedere un... Una pun... Uh. Uh. Sì! 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 Lo collochi! The winner! Incredibile! Io avevo anche il salmone corso. È bello salmone corso. Ti sto taserando. Fa male questo? No. Sì. Io però non... Cioè, non è giusto che ti hai preso le armi più potenti. Puoi smettere di lanciarmi le palle del delfino, per favore? La... La... Basta, dai. Per favore. Vai via. Io... Io penso di aver perso. Però... L'importante è partecipare. Noi ci rivediamo... A tutti. Domani. Con un... Che chiamante mia madre! Vado a suddi, ciao! Un nuovissimo video. Buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti. E... E... Anno... Anno... Nuovo. Un attimo. Che... Ora che è distratto... Un attimo. Un attimo. Ok. No. Forse è meglio... Ciao. Finisce il video così che almeno non muoio. Ciao! Ciao!